sulla via oreglia furbara a pochi chilometri da santa severa c'è il bar trattoria del passeggero dove ti aspettano piatti prelibati in un ambiente caldo e accogliente inoltre bar tabaccheria lotto super enalotto e scommesse sportive vieni a trovarci ti aspettiamo in un luogo dove sarai come a casa tua